Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione delle news di Gilda TV. Partiamo con il concorso contestato ai sindacati. L'uscita dei bandi ha aumentato l'impopolarità del prevenire e del ministro Giannini, che sono stati oggetti in questi giorni di nuove critiche. Propagandismo politico, protagonismo eccessivo sono i light motive che guida l'azione di questo governo, che sono pronti a partire con i ricorsi, a supporto dei tanti precari illegittimamente esclusi, lamentano ancora mancanza di confronto e sono determinati a modificare e cancellare quelle norme della Reggio 107 che incidono negativamente sui diritti ed il funzionamento delle scuole. Rientra in questa linea di condotta il convegno nazionale organizzato dalla Gilda Insegnanti e l'Associazione Docenti Art. 33, la 107, profili di incostituzionalità e referendum, che si svolgerà a Roma il 16 marzo prossimo. Intervengono Rino Di Meio, coordinatore nazionale, che conferma la lotta della Gilda agli aspetti più deleteri della riforma, Antonio D'Andrea, professore ordinario di diritto pubblico, Massimo Villone, già professore ordinario di diritto costituzionale, Fabrizio Rebersheim, presidente dell'Associazione Docenti Art. 33, e Tommaso De Grandis, responsabile nazionale dell'Ufficio Legale della Federazione Gilda Unans. Pronti i quesiti referendari. Il 13 marzo l'Assemblea a Roma prenderà il via la raccolta firma al sostegno dei quattro quesiti referendari contro la legge 107. Il comitato promotore, costituito da illustri costituzionalisti italiani, si è concentrato sugli aspetti peggiori della riforma, potere ai dirigenti scolastici, school bonus, alternanza scuola-lavoro, ripristino delle funzioni precedenti del comitato di valutazione. Contemporaneamente saranno raccolte firme anche per altri referendum sociali, per contrastare le politiche governative di privatizzazione, acqua e servizi pubblici, devastazione speculativa dell'ambiente. Bons docenti e fotocopie Un gruppo di docenti ha lanciato online una petizione, rivolta al ministro Giannini, per chiedere di poter usufruire del bons docenti di 500 euro per l'acquisto di stampanti, carta e cartucce. Spiegano ai pomotori che da quando sono stati ridotti i finanziamenti alle scuole, i prof sono costretti a stampare a casa le verifiche e il materiale didattico. Le scuole infatti sono autorizzate a stampare solo per estrema necessità. Successore tra i docenti della petizione, che in meno di due giorni ha incassato più di due giorni, di 1.500 firme. Nuova circolare sulle gite scolastiche. Polemiche sdegno dei prof italiani sul nuovo ruolo imposto al docente dalla circolare messa nei giorni scorsi dal direttore generale dell'ufficio educativo del MIUR, Giovanna Boda, che invita i docenti ad occuparsi durante le gite scolastiche, oltre che della sicurezza degli studenti, anche dello stato di salute del conducente e lo stato del mezzo di trasporto. La deputata del Movimento 5 Stelle, Silvia Chimienti, ha presentato un'interrogazione parlamentare a riguardo, chiedendo che la circolare venga subito ritirata perché assurda, offensiva nei confronti del corpo docente, quindi irricevibile. Accesso al concorso agli abilitanti di sostegno è quanto chiedono i parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura della Camera con un'interrogazione parlamentare. Affermano che consentire l'accesso contribuirebbe a sanare la cronica lacuna strutturale del sistema scolastico italiano da sempre carente di docenti di sostegno rispetto al numero degli alunni disabili. L'Onorevole Maria Marzana poi pone l'accetto su un'altra questione, l'ingiustizia che si verificherebbe verso chi si sta specializzando con un corso annuale e si veda soppassare da concorrenti che hanno ottenuto la stessa specializzazione con titoli presi in Romania in 15 giorni. Seminari Gilda a Modena e a Brescia Si è svolta a Modena il 29 febbraio il seminario dal titolo Una valutazione bisestile patrocinato dalle organizzazioni sindacali allo scopo di fornire chiarimenti ai partecipanti sulla valutazione dell'insegnamento, comitati di valutazione e bons docenti. Sono intervenuti Fabrizio Reberscheg, membro della Direzione Nazionale della Gilda Insegnanti e Associazioni Articolo 33, Paola Serafin, direttore responsabile dell'Associazione Cisdo Scuola, Mara Mallace della CGL. Il 29 febbraio, anche a Brescia, la Gilda Locale ha organizzato un corso di formazione di tre ore per i docenti di loro messi in ruolo e di loro tutor. Il professor Dirgola Musumeci, coordinatore Gilda Brescia ed il professor Claudio Oliva della Gilda di Lucca hanno illustrato ai presenti il bilancio delle competenze e le modalità di utilizzo della piattaforma Indire. Mobilità, i tempi La pubblicazione dell'ordinanza ministeriale è prevista tra il 21 e il 26 marzo e riguarderà circa 250.000 docenti, quattro nei fasi previste. Ogni fase avrà un tempo diverso. La domanda va presentata attraverso i sistemi istanzi online sul sito del MIUR. Potranno presentare domande di mobilità professionali, passaggi di carta e di ruolo sulle docenti che hanno superato il periodo di prova nell'anno scolastico 2014-2015. Per il personale ATA, la presentazione della domanda per la mobilità è prevista per la metà di aprile e la metà di maggio. Tiroceni formativi attivi Con decreto ministeriale numero 249 si è stabilito che la frequenza dei TFA corsi universitari a numero chiuso con obbligo di frequenza e prova preselettiva consente di ottenere l'abilitazione all'insegnamento. I candidati interessati alle iscrizioni trovano tutte le informazioni sul sito del MIUR dedicato tfacineca.it Commissioni esaminatrici per i concorsi a cattedra Sui stanzi online del sito del MIUR dal 3 al 19 marzo tutti i docenti con almeno 5 anni di ruolo possono presentare la loro candidatura per far parte delle commissioni giudicatrici del prossimo concorso a cattedra. Per questa settimana è tutto Arrivederci da Giuseppina Piazza